Cari amici ben ritrovati, guardiamo insieme anche per oggi la situazione medio climatica. L'anticiclone di questi giorni sarà una parentesi che probabilmente si concluderà molto presto. Infatti entro la fine del mese di ottobre un nuovo cambio di circolazione potrebbe portarci su temperature quasi invernali. Tutto questo grazie ad un'azione del vortice polare il quale sta mostrando molta fatica a compattarsi. A tal proposito avremo ben presso una zona di alta pressione che dall'oceano atlantico influenzerà il tempo d'Europa, obbligando quasi la circolazione a virare verso il freddo. L'anticiclone degli Azzore tenterà una risalita verso nord agevolando la discesa di masse d'aria fredda su Europa e Mediterraneo. Una tale situazione porterà tempo perturbato soprattutto al centro e dal sud con nuove precipitazioni e ovviamente tempo freddo e ventoso protagonista al centro nord. Ma di questo ci preoccuperemo a tempo debito. Vediamo invece adesso la situazione odierna sulla nostra provincia, dove il tempo, ancora per oggi, sarà velato o poco nuvoloso in un contesto sereno e soleggiato. Le temperature si manterranno sui valori dei 26 gradi le massime e minime di 17. I venti di moderata intensità soffriranno da sud-sud-est e sempre da sud-sud-est nella sera, ma di debole intensità ed il mare nello stretto di Messina sarà poco mosso. Sul versante tirenico giornata serena e soleggiata. Le temperature in lieve ripresa si porteranno sui 26 gradi diurni e minime di 19 nella notte. Venti moderati soffriranno da est-nord-est e da est-sud-est nella sera ed il martireno sarà poco mosso. Sul versante ionico ancora nuvolosità sparsa e possibili deboli piogge nelle ore pomeridiane. Le temperature si porteranno sui 23 gradi diurni e minime di 17 nella notte. Venti moderati soffriranno da sud-est e da est-sud-est nella sera, ed il marionio sarà tra il poco mosso ed il mosso. Nella giornata di venerdì 19 ottobre, un cuneo di alta pressione con matrice africana manterrà ancora il tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia. Nubi basse o stratificate sono presenti al nord, con nebbie anche stese su alcune zone. Al sud tempo e clima di nuovo dai connotati estivi, con cieli sereni e limpidi ovunque, con temperature in aumento ben oltre 24 gradi su Palermo. Sulla nostra provincia giornata serena e temperature nuovamente ripresa, comprese tra 27 e 19 gradi. I venti prevalentemente moderati soffriranno da sud-sud-est ed i mari saranno poco mosso sia il Tirreno che lo Ionio. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.